La strada per l'incontro in Toscana si intreccia con le decine di strade che nelle diverse regioni italiane da questa mattina vengono percorse dai rover e dalle escolte della Gesci. I giovani dell'ultima fascia di età che sul tema del coraggio si incontrano e si confrontano per realizzare una carta dell'impegno per i prossimi anni. In Sicilia si svolgono in questi giorni 15 route con circa 850 ragazzi e adulti che si sono incontrati sull'Etna, si parlerà di ambiente, a Siracusa e Ragusa, tra i luoghi teatro e i recenti sbarchi di migranti, sui Peloritani e a Messina dove la giovane Graziella Campagna diventò nel 1985, suo malgrado, vittima inconsapevole della mafia. A Trapani l'itinerario Garibaldino farà parlare di impegno politico e infine sulle Madonie a Palermo, un itinerario sulle tracce del beato Pino Puglisi e nei luoghi della resistenza nata dopo le stragi mafiose. Questa mattina ragazzi di Palermo ma anche di altre parti d'Italia si sono ritrovati sulla collina che sovrasta l'autostrada a Capaci, nel punto in cui Giovanni Brusca azionò il telecomando per uccidere Giovanni Falcone. È un luogo molto importante, anzi anche l'ambiente è molto diverso dal nostro, noi avevamo la curiosità di venire qui anche per conoscere una realtà diversa e anche per imparare qualcosa di nuovo anche su questa terra che è ricca di storia e di un'importanza particolare come hai detto anche a livello, diciamo per la situazione che c'è qui. Sì, noi siamo molto emozionati e non vediamo l'ora, speriamo anche di fare un percorso che ci permette di conoscere e di visitare non solo il luogo ma anche di imparare appunto qualcosa come ho già detto. Noi come clan di Verona abbiamo trattato il coraggio di essere cittadini e abbiamo informato diciamo delle persone su Villa Pulle che è una villa che doveva essere demolita ma è una villa molto bella e importante per Verona diciamo. E quindi noi abbiamo informato le persone del luogo e le abbiamo come dire sensibilizzate a questa cosa e quindi abbiamo cercato di fare in modo che non venisse diciamo distrutta ma ristrutturata e abbellita diciamo visto che c'era anche un parco annesso a Radissa. In quanto ermitano credo sia il mio dovere comunque diciamo farmi portatore di questi valori e di queste esperienze e provare di trasmetterle a loro. Io che ho vissuto in prima persona queste diciamo queste tragedie, questo fenomeno mi sembra doveroso diciamo trasmettere le mie impressioni, le mie esperienze e renderne loro padroni.